Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili rallentamenti in A1 in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, sulla Firenze Mare tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso il capoluogo. Per lei statale sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per cantieri tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord in direzione di Siena. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze e segnaliamo che sono in corso i lavori per l'installazione della porta telematica a protezione della corsia riservata in piazza Stazione e lato Scalette. Fino a domani sono previsti restringimenti di carreggiata e all'occorrenza senso unico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!